Ma c'era un lancio che aveva durato prima Da chi? Da l'alto Ma certo Casino No, fa una macchina Hai visto cosa fa la Luna? Morsa un uomo Gli sta? Perchè la vuol montare Perchè la riga a tutti Brava Luna Allia dietro però Brava Diego Che bello che sono i miei coglioni Guarda che i oli vedi? Sono bellissimi Mi manca uno Chi manca? Ah è la Ferma Raga Eh Grazie Brava Luna Brava Totone Non tirare fuori i boccantini Sì 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 Ehi Sì 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, il giacchettino, quando lo porto a tasso, sì, E il giacchettino, quando lo porto, lo porto è un'attimento di un'attimento per il S.K.A. Grazie a tutti Grazie a tutti